Si chiama Michele Solazzo, è di Bisaccia ed è il candidato irpino, espressione di rifondazione comunista nella lista Rivoluzione Civile al Senato. Il candidato è stato presentato ad Avellino presso la sede del PRC alla presenza del segretario provinciale Torin della Pia. Tra i temi al centro del programma di Solazzo, quelli ambientali come il no alle trivellazioni in Alta Irpinia. L'ambiente, invece, deve essere inteso come un settore attraverso il quale produrre energie rinnovabili e insieme crescita occupazionale. Michele Solazzo, candidato al Senato nella lista Rivoluzione Civile di Ingroia, espressione di rifondazione comunista, perché la decisione di impegnarsi in prima persona in questa tornata elettorale? L'impegno in prima persona non è mai voluto meno, diciamo, dal 75. Sono sempre stato praticamente in questi raggruppamenti di sinistra. Oggi per rifondazione sono il numero 10 in questa lista. Sono in questa lista perché voglio, secondo me, rappresentare al meglio i problemi che ci riguardano come territorio. Questi problemi, che nel territorio hanno poca possibilità di essere risolti, è necessario portarli a Roma. Con questa lista, secondo me, è necessario, è utile, è urgente portare questi problemi a Roma. I problemi fondamentali sono... Io mi occupo di ambiente, essenzialmente. L'ultimo problema è il petrolio in ordine di tempo. Abbiamo sollecitato e abbiamo aderito a comitati che si sono realizzati sul territorio, nella linea che va nella Valle Ufita alla Valle del Calore, dalla provincia di Avellino sino alla provincia di Benevento. È chiaro che sulle attività estrattive ci sono degli elementi di criticità perché siamo in zona sismica, perché in questi due bacini si sviluppa i più grossi acquedotti per utenza in Europa e perché molto probabilmente bisogna puntare su altri elementi, per esempio l'eolico. Non così come è stato realizzato. Il mio è un paese, il terzo in Italia, di produzione eolica, però anche lì ci sono degli elementi di criticità. Per esempio, non esiste una legge regionale che regolamenta gli impianti. Basta pensare che gli impianti esistenti, realizzati senza una legge, abbondantemente coprono il consumo di elettricità civile in tutta l'intera provincia di Avellino. Per cui, senza un piano, mi sembra anche poco credibile, vuol dire che le autorità locali, province e regione non hanno avuto la sensibilità di fare un piano di programma, per esempio per l'eolico, per l'energia, che è un fatto strategico.